Il Consiglio Comunale di Trani supera agevolmente lo scoglio del bilancio di previsione. Lo scontro tra il sindaco Bottaro e quella parte di maggioranza che nella scorsa seduta si rifiutò di approvare il piano economico finanziario dei rifiuti e l'aumento dell'Atari non ha prodotto quindi danni irreversibili pur lasciando dei dubbi sul sereno proseguimento del mandato amministrativo. Il centrosinistra si è presentato in aula al gran completo, dissidenti compresi e con la sola eccezione di De Laurenti Sebriguglio, per approvare il provvedimento più importante e qualificante di un'amministrazione. L'Atari rimarrà invariata per il 2017 così come auspicavano i consiglieri entrati in rotta con il sindaco, benché ora rimangono da trovare le risorse necessarie a coprire lo squilibrio di bilancio venutosi a determinare. Il costo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti era infatti aumentato di un milione di euro rispetto all'anno precedente e il sindaco dovrà impegnarsi a ricavare da altre fonti e non più dall'aumento dell'Atari i soldi che servono per la sua copertura. In mattinata era stato approvato l'aggiornamento del DUP, il documento unico di programmazione e il programma triennale dei lavori pubblici, pur tra lo scetticismo delle opposizioni. Parlano di libro dei sogni sia Forza Italia che Trani a capo, di mancanza di una visione strategica sul futuro della città e i consiglieri di Fratelli d'Italia. Perplessità dalle minoranze anche sulla programmazione delle vecchie opere pubbliche, molte delle quali dicono mai cantierizzate un ritardo cronico sui tempi di realizzazione. Il sindaco Bottaro sottolinea invece l'importanza di aver inserito nel piano opere fondamentali e attese da anni dalla città, come l'allargamento della strettoia di Pozzopiano e la manutenzione di scuole e strade dissestate. Il Consiglio Comunale è proseguito nel primo pomeriggio con l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e la conferma venuta dal sindaco Bottaro che il convento degli ex agostiniani sarà concesso alla ASLE in cambio della ristrutturazione del bene. Dopo aver licenziato anche il bilancio di previsione, la seduta si è conclusa con l'adozione della carta di avviso pubblico e l'approvazione del regolamento del garante dei diritti delle persone private e della libertà personale. Sembra quindi tornare il sereno tra il sindaco e la sua maggioranza, ma sono in molti ad attendersi nelle prossime settimane un nuovo rimpasto di giunta che eviti in futuro altre preoccupanti di fibrillazione interne.